Le montagne per Udine sono dietro l'angolo, ma la neve in città non ha lo stesso impatto di quella che cade in quota. I disagi rischiano di portare al collasso del traffico se non affrontati in anticipo. L'amministrazione comunale testerà con le previste nevicate delle prossime ore il nuovo accordo triennale per il servizio di pulizia dalla neve e spargimento del sale antighiaccio. Un'intesa ben più complessa di confini cittadini che interesserà 440 km di strade nei 5 settori in cui il territorio è stato operativamente suddiviso, zone nord, sud e centro, oltre ring e tangenziale. La viabilità principale sarà la priorità per lo sgombero della neve e la contestuale salatura delle strade. Interverranno 12 mezzi spargisale e spalaneve, ma altri 4 saranno pronti a intervenire in caso di situazioni più delicate. Prevedendo proprio questi casi, che si sperano eccezionali, oltre alle 200 tonnellate di sale previsti dai capitolati con le ditte private che eseguiranno il servizio, il comune di Udine ha accantonato altre 20 tonnellate di cui una parte cospicua è già stata consegnata ai volontari di protezione civile. Ogni istituto scolastico ne avrà una specifica dotazione. Il servizio di pronto intervento, attivo H24, è stato affidato a tre cooperative. Il costo annuo complessivo del piano neve ipotizza un costo di 100.000 euro, ma sarà ovviamente legato agli eventi atmosferici da gestire.